buona giornata amici bentrovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è venerdì 23 agosto 2024 abbiamo notizie di sport oggi in prima pagina per quanto riguarda le vicende sia del fano calcio che dell'alma juventus le vediamo poi magari contrapponendo una con l'altra intanto passiamo come sempre attraverso l'almanacco del giorno per vedere che si festeggia oggi e oggi abbiamo una santa americana eccola si tratta di santa rosa da lima in realtà si chiamava isabel flores de oliva santa dicevo peruviana nata a lima mistica devota in modo particolare di santa caterina da siena di cui scelse di imitare le vertù ebbe molte visioni e dopo aver resistito avendo fatto voto di verginità alle insistenze dei genitori che volevano che si sposasse entrò in un convento di domenicane e visse veramente una vita di carattere evangelico data di dotata di preghiere di povertà di privazioni santa rosa da lima ecco una santa molto venerata in america ed ora vediamo le previsioni del tempo continua l'estate possiamo dire oggi il cielo è sereno poco nuvoloso oppure per l'intera giornata su tutto il territorio regionale le temperature massime toccheranno anche oggi valori molto alti 34 gradi la massima 21 gradi la minima i venti sulle coste espireranno da est dall'entroterra da sud e sud ovest il mare leggermente mosso il sole sorto alle 6 19 tramonterà alle 20 01 e allora passiamo alla lettura delle dei giornali questa mattina cominciando dal corriere adriatico e vediamo l'apertura dedicata ancora alla situazione di piazza andrea costa piazza andrea costa e la piazza del mercato luogo centrale situato nel cuore della città di fano ma anche nel cuore della storia di fano dell'antica fanon fortune si cerca il cardo massimo un elemento essenziale per definire la mappa archeologica della città sappiamo che l'incrocio tra il cardo massimo e il decumano massimo era un punto nevralgico delle città antiche magari anche quelle fatte con un tipo urbanistico così di carattere ipodameo incrociando le strade l'una con l'altra e formando degli isolati di tipo quadrato ebbene altre oltre 200 sono ormai le adesioni al comitato che si è costituito per far sì che i sondaggi in atto di carattere alcologico in piazza andrea costa vadano in profondità e arrivino fino allo strato romano e invece di mantenersi soltanto ad una quota superficiale oltre 200 le adesioni all'appello che è stato lanciato inizialmente dall'archeologo baldelli gabriele baldelli e poi condiviso da tante persone tante persone influenti dal punto di vista culturale dico a professori universitari storici elementi personaggi di cultura di fano ed ora si cerca di capire quali saranno veramente le intenzioni dell'amministrazione comunale che preventivamente ha detto che si metterà a disposizione della sovraintendenza cui spettano le decisioni più importanti. Vediamo anche la notizia di fondo dove si parla del paese dei balocchi questa grande manifestazione che procede nel dopo ferragosto e vediamo che questa sera si conclude con una serata veramente molto bella molto intensa molto partecipata dopo che l'altro giorno c'è stato il bellissimo spettacolo di fuochi artificiali ebbene questa sera c'è un appuntamento importante l'intervista a Fabrizio Macchi cittadino onorario del paese dei balocchi e gloria del paraciclismo italiano. Anche in questa storica ventesima edizione le proposte di svago e intrattenimento sia per bambini che per adulti sono molto importanti sono molto molto partecipate. Il festival propone nel palco in piazza alle 21 scottadito and friends una improvvisazione teatrale e alle 22 il concerto di HBH band. Sul palco centrale alle 22 e 15 il cuoco Don Pasta progetto multimediale che combina cucina, salentina, musica, racconti popolari e immagini e nel parco ci saranno le novità di Paolo Casisa in Il Brigante Tartaglione e Mr. Bang in The Street. Sono tutte le iniziative che danno un'ampia possibilità di scelta di divertimento sia per i grandi che per i piccini. Un incontro importante ancora è quello con il non vedente Luca Lepri intervistato dal giornalista Massimo Barbadoro. Ed ecco il secondo titolo di apertura pubblicato dal Corriere Adriatico. Lo abbiamo in pagina ovviamente anche nel resto del carino perché è frutto di una conferenza stampa che si è tenuta ieri nella sala della Concordia del Palazzo Comunale con l'intervento dell'assessore regionale Stefano Aguzzi. Si parla di scogliere, delle scogliere di Ponte Sasso molto molto desiderate, molto invocate dai concessionari di spiaggia a causa dell'erosione frequente che il mare sta così provocando nel litorale di Ponte Sasso. Ebbene si comincia ad intervenire. Siamo all'inizio, non sarà subito perché i lavori saranno conclusi nel 2026, ma è importante che la Regione abbia ottenuto i finanziamenti per realizzare almeno il consolidamento di tre setti, sono molto lunghi, di scogliere sommerse per un importo di 4 milioni e 200 mila euro. Pensate che l'intero intervento comporta il consolidamento di nove scogliere per un importo di 14 milioni. Intanto si comincia con tre scogliere con 4 milioni e 200 mila euro di cui 380 mila sono a carico del Comune, mentre il resto sono a carico appunto della Regione, che ha avuto soldi dal Ministero. E poi si parla di un evento culturale che introduce, che reintroduce l'opera lirica in estate a Fano. L'opera lirica in estate si era un po' persa dopo le grandi stagioni che erano state organizzate all'interno della Corte Malatestiana. Ebbene, l'occasione è stata data dal Festival Il Bel Canto Ritrovato, un'iniziativa organizzata dall'Orchestra Sinfonica Rossini per rivalutare quei compositori, quei musicisti che hanno avuto un grande successo all'inizio del 1800. Poi piano piano le loro opere così ci sono un po' dimenticate. Due in modo particolare, Lauro Rossi e Nicola Vaccai. E proprio di Lauro Rossi, il compositore maceratese, verrà allestita l'opera La Casa Disabitata. La Casa Disabitata, che è stata composta dal musicista maceratese, con grande successo, aveva debutato nel 1834 alla Scala di Milano ed erano seguite parecchie, parecchie repliche. E poi era stata ripresa con un titolo diverso, ma era sempre la stessa, dieci anni dopo, nel 1844, con il titolo I Falsi Monetari. E proprio questa edizione sarà rappresentata sabato prossimo alle ore 21 al Teatro della Fortuna. E sarà dunque, così, sarà ridata a questa composizione una nuova vita, un nuovo allestimento. Ieri l'iniziativa è stata presentata nel foyer del Teatro della Fortuna dai protagonisti, dagli interpreti e soprattutto dal presidente dell'Orchestra Sinfonica Rossini, Saul Salucci. Passiamo a Colli al Metauro. Don Attilio ha festeggiato il secolo di vita. Cento anni e tanti gliene auguriamo ancora. Mai avrei pensato di arrivare a quest'età. E c'era anche il Vescovo Don Andrea Andreozzi. Don Attilio Tomassini è stato festeggiato con tanta, tanta riconoscenza per i suoi cent'anni alla presenza di Don Luigi Spallacci, l'assessore alla cultura del comune di Fano, Lucia Tarsi, Suor Laura Marangoni, Anna Chiara Mascarucci, il vice sindaco di Colli al Metauro, il Vescovo Andrea Andreozzi e Don Ferdinando Radicchi, oltre a Don Stefano Betti. Non pensavo mai, ha detto, di arrivare a questa età. Sono confuso. Ringrazio il Signore per la mia condizione di contadino, che mi ha reso umile, mi ha reso laborioso e sono stato capace di lavorare con le mani, ma soprattutto anche con la sua indole molto altruistica, molto portata ad aiutare gli altri. E questo ha caratterizzato la vita di Don Attilio. Ed ora passiamo a terre roveresche, dove ci sono ancora guai, scusate, ancora guai per il sindaco Antonio Sebastianelli. Il sindaco Antonio Sebastianelli aveva venduto per un prezzo simbolico, un centesimo all'uno, alcuni mezzi di proprietà del Comune. E questo ha sollevato le rimostranze di un gruppo di minoranza. Si tratta di Condividiamo, i cui rappresentanti, Savro Marcucci, Cinzia Malvoni, Giacomo Pucci e Matteo Zeno, si dicono profondamente preoccupati riguardo alla gestione poco trasparente e discutibile attuata dal primo cittadino. Si tratta di un camion con un cestello, un grader e un trattore con un braccio decespugliatore, che sono stati venduti a prezzi simbolici di un centesimo all'uno. Secondo il sindaco erano mezzi desueti, mezzi che non venivano più usati, e quindi piuttosto che metterli e mandarli al macero sono stati appunto venduti per questo prezzo simbolico. Passiamo a Mondolfo, dove continua la settimana dedicata al ruolo di capitale della cultura. Mondolfo lo condivide insieme a Pesaro, tutto quanto fatto sotto il nome della Fisarmonica. Grande successo ha ottenuto Tramantici, il festival della Fisarmonica di Mondolfo, che con questa seconda edizione sta animando appunto la settimana della cultura. Passiamo a Senigallia. Passiamo a Senigallia e vediamo un articolo di cronaca. Nel Misa, per recuperare il cane, si tuffa il proprietario di questo animale, che gli era sfuggito e quindi era caduto nel torrente, però mentre riesce a salvarlo e cerca di risalire la scaletta, ha un malore ed è stato salvato da due persone. Era un turista, stava passeggiando alle 7.30 del mattino sulla banchina di Levante quando il suo cane gli è sfuggito di mano ed è caduto nel tratto del Misa che attraversa il porto. Ebbene, l'uomo si è gettato in acqua, è riuscito a raggiungere il cane, lo stava riportando sulla scaletta per risalire sulla banchina, ma lì ha avuto un malore. E veramente si sarebbe trovato in grosse difficoltà se non fosse stato aiutato da due persone. Severino Tricarico, responsabile locale della Società Nazionale di Salvamento, quindi veramente una manzanta che si trovasse in quel posto, e da Gianluca Campolucci, un altro volontario. I due erano in servizio per il concerto dello Scalozero e degli Champisti hanno subito notato questa persona che era in difficoltà, gli hanno lanciato un salvagente e poi i due volontari sono riusciti a recuperarlo e ha tirato fuori dall'acqua insieme al suo cane. Quindi una disavventura finita per fortuna bene. E l'espediente del sindaco Olivetti di cercare di risolvere il problema causato dai piccioni rischia di procurare dei guai all'amministrazione comunale. Infatti in un gabbione trappola è finito un piccione dentro ed è morto. E questo ha suscitato le proteste dell'associazione Stop Animal Crims Italia, che ovviamente protesta per la morte degli animali. I piccioni sono di una specie, stavo per dire purtroppo, ma non lo posso dire ovviamente, è una specie protetta e quindi non possono essere uccisi. Bisogna cercare di limitarne la riproduzione con altri mezzi. Prima di passare al resto del calino vediamo anche la pagina di Pesaro, pubblicata dal Corriere Adriatico, dove vediamo che adestano polemiche le dichiarazioni del sindaco Biancani che ha invitato i cittadini pesaresi ad adottare i tombini. Adottare i tombini significa tenerli puliti, togliere gli aghi dei pini, le foglie, l'atterriccio che si deposita appunto nelle fogne, in modo da tenerli sempre efficienti in caso di grossi temporali, come avvenuto recentemente in città, dove alcune strade e anche alcune case sono state invase da acqua e fango. Adottare un tombino, altro che senso civico, sembra scherzi a parte. Il suggerimento del sindaco Biancani scatena la protesta dei Rioni, Gambini e Manenti rilanciano la proposta del cantoniere di quartiere. E sono proposte che animano anche il dibattito politico della stagione estiva, quando ancora si va un po' a rilento per quanto riguarda la questione amministrativa. Anche se gli amministratori sono sempre al lavoro. Da gestire a Pesaro ci sono 25 mila caditoie, non tutte, sembra, siano a norma. È stato fissato un incontro con Marche Multiservizi per un calendario settimanale, ovvero per cercare di tenere pulito costantemente tutto l'impianto fognario. In quest'altra pagina vediamo ancora la foto dell'assessore regionale Stefano Aguzzi, che è intervenuto nella nuova riunione del Comitato della Protezione Civile. Siccità, il Pozzo del Burano resta ancora aperto. Qualcosa è stata ridotta per quanto riguarda il prelievo dell'acqua, grazie appunto alla pioggia caduta in questi giorni, ma si tratta di poca cosa. Invece di 300 litri al secondo se ne prelevano 250, quindi la differenza che si risparmia è di 50 litri al secondo. Crisi idrica, si registra un miglioramento minimo e senza l'aiuto delle piogge, insomma, la situazione ancora non si risolve. L'ondata di maltempo che ha investito la costa pesarese è stata pressoché inutile per risolvere il problema della siccità. Quindi bisogna così tenere molto molto preziosa l'acqua che rimane. Vediamo anche un articolo che riguarda i bambini. A Pesaro si organizza una nuova edizione della Mezzanotte Bianca dei Bambini. Torna e raddoppia eventi e tempi. Ebbene, è un insieme di laboratori, di giochi, di tante sorprese per i più piccoli. Il centro storico diventerà il regno dei bambini. Torna dunque la Mezzanotte Bianca, torna in formato capitale della cultura, quindi con un rilievo maggiore rispetto agli anni scorsi. Sono due giornate dedicate alle bambine e ai bambini che insieme alle loro famiglie potranno trovare molte proposte di divertimento da condividere con i pesaresi che sono molto affezionati a questo evento. Insomma, esiste anche l'impegno dell'amministrazione comunale che è stato ribadito dal sindaco Biancani. Vediamola a Urbino. A Urbino si annuncia la festa dell'Aquilone, una delle feste più tradizionali, più tipiche, più storiche della città ducale. Il marchio è stato registrato. Arriveranno ospiti, pensate, da sei paesi stranieri. È stata presentata questa edizione, la 69esima. Premio Raffaello per l'opera più tecnica e poi ci sarà anche la gara delle contrade. Ma la festa dell'Aquilone è l'evento più così bello, anche dal punto di vista poetico. Insomma, lo ricordava anche Giovanni Pascoli. Un'intera comunità impegnata per far vivere con tradizione legata a fantasia, creatività e libertà per così realizzare questi pensieri, questi sogni che volano nel cielo. E allora, a questo punto, passiamo al resto del Carlino, dove abbiamo già anticipato l'apertura per quanto riguarda lo sport. Ma è uno sport più parlato che giocato. Infatti si parla delle disavventure che stanno caratterizzando l'attività dell'Alma Juventus, condotta dal suo presidente Salvatore Guida. Abbiamo visto come ieri il resto del Carlino avesse pubblicato i problemi finanziari derivati dal mancato pagamento delle bollette dell'acqua, tant'è che i giocatori erano stati costretti a fare la doccia nella vicina palestra di Ponte Metauro perché i rubinetti degli spogliatoi del campo sportivo Mancini erano privi di acqua, erano all'asciutto. Non erano state pagate le bollette, le bollette dell'acqua e le bollette del gas. Ma ora ci sono anche dei giocatori che vantano arretrati per gli stipendi. E allora calciatori e fornitori battono cassa, Alma rincossa dai creditori. L'avvocato dell'AIC è in campo per i tesserati, ma anche diverse aziende hanno somme da recuperare. Comunque il presidente Salvatore Guida, il quale va avanti al momento con l'iscrizione della squadra nel campionato di eccellenza, ha detto che ha assicurato, anzi che pagherà le bollette arretrate per 8.000 euro relative non solo al gas, ma anche alle utenze dell'acqua. Domenica comunque l'Alma Fano giocherà la prima amichevole, lo farà a Fermignano, campo designato per le partite in casa del campionato. Insomma, l'Alma Juventus Fano che gioca in casa, però nel campo sportivo del Fermignano, in quanto il Mancini è stato dato all'altra squadra, quella che è stata realizzata dopo appunto la debacle dell'Alma Juventus e il Fano calcio. E allora vediamo anche in questa pagina del resto del Carlino, la notizia delle scogliere di Ponte Sasso, 3,8 milioni per rinforzare gli scogli, è la somma che metterà a disposizione la Regione, sono fondi che arrivano dal Ministero, mentre il Comune di Fano interverrà per la differenza fino ad arrivare a un costo di 4 milioni e 200 mila euro. E poi ancora l'invito che viene ribadito, l'invito che ha lanciato il Comitato per l'ampliamento degli scavi di Piazza Andrea Costa, scavate ancora in questa Piazza Costa il pressing per non ricoprire l'area. Baldelli, De Santis e Zacchilli sono i primi firmatari dell'appello al Sindaco, chiedono di non perdere questa occasione storica. e vedremo che cosa risponderà il Sindaco oggi e si terrà la consueta conferenza stampa del venerdì nella quale è stata annunciata un intervento appunto del Sindaco Sir Filippi in merito a questa questione. Vedremo l'atteggiamento dell'amministrazione comunale. Non è andata molto bene la stagione turistica per i concessionari di spiaggia, per gli alberghi e anche per i camping. Un'estate sottotono per i camping fanesi, lieve calo delle presenze anche per le mucillaggini. Ci salvano le tante opportunità del territorio, lo ha dichiarato Thomas Armista, che è gestore della sosta attrezzata per camper di Gimarra. È un'estate dunque sottotono per i camping fanesi, alle prese con un lieve calo di presenze, provocato un po' dal turismo mordi e fuggi. Insomma, quel turismo che arriva ci sta a pochissimi giorni. Insomma, gli arrivi sono stati in aumento, però le presenze no. E questo ovviamente incide sulla economia turistica del nostro territorio. Quindi una situazione, insomma, non molto bella. Nonostante che il tempo fosse stato molto, molto favorevole, anzi troppo, possiamo dire. Poi anche il troppo caldo non è che incentiva la sosta in spiaggia oppure in città. A Urbino, festa dell'Aquilone. Siamo già a 69. Sono le edizioni. Contrade in fermento per la sfida. L'appuntamento si rinnova senza tradire lo spirito degli anni 50. Ebbene, questo è un vero momento di gioia collettiva. Quest'anno aumenteranno gli ospiti internazionali che faranno volare comete tecniche. Insomma, anche la tecnica del volo degli Aquiloni è stata perfezionata e li vedremo volteggiare nel cielo con delle soluzioni tecniche veramente ammirabili e suggestive. Siamo in conclusione. Vediamo una denuncia che viene sempre dalla città Ducale, da Urbino, per quanto riguarda lo stato della camera mortuaria. Una camera impresentabile. Così viene definita. Ci siamo ritrovati in una specie di tugurio, ha detto una famiglia, senza spazio nemmeno per pregare e piangere il nostro congiunto. La camera mortuaria è in un vano caldaia. La porta d'ingresso è in ferro da cantiere. Ci sono tubi di gas e di acqua a vista sopra le teste dei congiunti, dei defunti. Le bare non passano nelle porte, sono strisciando nei muri perimetrali. Questa è un po' la descrizione di questo ambiente che certo non sembra sia consono alla dignità che deve avere un momento così importante alla fine della vita delle persone e soprattutto anche per quelli che restano, che piangono i loro parenti. E con questo terminiamo la nostra rassegna stanta dandovi appuntamento come sempre a domani alle ore 7 per le notizie del giorno alle ore 20.30 di questa sera al TG di Fano TV Occhio alla Notizia. Grazie per l'ascolto e a risentirci. Grazie a tutti.